Il 9 maggio al Salone del Libro, gli allievi della scuola primaria Pietro Baricco di Torino hanno incontrato l'autore del libro Piccoli Gusti, Lorenzo Branchetti. Gli studenti hanno poi presentato i lavori svolte in classe sul tema dell'educazione alimentare, confrontandosi con l'autore. Il laboratorio di lettura, organizzato con la Biblioteca regionale, rientra nell'ampio panorama di iniziative ed interventi che fanno parte di una buona occasione. Progetto ideato e realizzato dalla Regione Piemonte.